Mamma mia, Stojanovic, in versione Lebron James Poblant vuole andare da Varnado, molto bene Piccarola eseguito tra i due, Varnado con una facilità impressionante Il rimbalzo Pianumba si fa sfuggire, aveva quasi nelle sue mani Esperienza d'Italia Clark, che assist, quello del meno 4 Il ministro della difesa, come lo chiami tu? Il grosetto è quasi 2 metri Qua c'è una scoppata meravigliosa di Dario Hunter Borna si chiede, ma come mai? Ma chi sarà? 41, Chiunti, Giurevico, Pozzo importante, gran finta, prova ad andare a mettere in ritmo! In ritmo, in ritmo, in ritmo, in stessa, uno è morto! Anche noi due, Pepe prova a trovare un taglio eccellente Double, e strapessa, e slam top per Ron Jackson Junior Torino è uscita con i cannoni Questo cosa adesso a prenderselo è Federico Miaschi Miaschi contro Widl, Miaschi step back in faccia a Widl Da 3 punti! Federico Miaschi fa impattire tutto al parabanca Forza, supera Mayfield, fino al fondo c'è Sonia! Una stoppata meravigliosa! Non trova Zunio, trova invece Logan Falleggia, resto, tiro da 3 punti, sbagliato, ennesimo Rimbalzo offensivo della partita per Nikolic Che poi vola al ferro e schiaccia per la terza volta nell'incontro Che ormai ci sia poco da fare per pensare di raddrizzare questa sera l'incontro Parini! Schiaccia il più 31! Grazie a tutti!